Il presidente del sindicato FTR, Rudy Gehrman, che è stato un negozatore del sindicato, è stato un problema di una conferenza di prensa per il manegro di gobierna per coberta per ricogliere il sushi. Il presidente del sindicato FTR, che è stato un negoziatore di sindicato, è stato un negoziatore del sindicato, quando ha proponato una riunione per il 22 febriari. Però non ha contesta, guarda la riunione a tu, ma l'uuga. La riunione a tu, ma la riunione a tu, ma la riunione a tu, ma l'uuga. La riunione a tu, ma l'uuga. La riunione a tu, ma la riunione a tu, ma la riunione a tu, ma l'uuga. 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 che la proposizione arriva a Mesa e il governo non chiede mai il caso di Esaqui. Mirando la seriedade del asunto, la ripetita la carta per il ministro e la voleva chiedere una riunione. Sin embargo, il sindicato non ha cercato a cercare di marci e la responsabilità di sushis del governo, secondo Germán. Nel idoso che sono a papi con il ministro con Cernì e il signor Gabi Berleman, però non ha detto niente di più, dopo aver mandato la carta con la proposizione. A teatro spero che pronto e poi ci sono la messa con il ministro Benny Sievenger.